Radio Radicale con Matteo Mauri del Partito Democratico, commentiamo il voto delle regionali in Umbria ed Emilia Romagna. È andata bene, molto bene. Allora la lezione che possiamo trarre da questo voto è che quando non si litiga funziona? Beh, possiamo dire che meglio di così non poteva andare, che è tanta roba di questi tempi, visto anche un po' il clima in generale, in giro per l'Europa, in giro per il mondo. È una vittoria, o meglio, sono vittorie che danno fiducia, che consolidano anche un lavoro che si sta facendo. Siamo dispiaciuti ovviamente per la Liguria, ma anche lì è finita un'incollatura e credo che la cosa più importante, il segnale più evidente che esca da queste vittorie sia il segnale che siamo sulla strada giusta e di conseguenza stiamo facendo le cose giuste, stiamo provando a stare sui temi che interessano alle persone, la vita quotidiana delle persone che non sempre siamo riusciti a valorizzare fino in fondo in altre situazioni e che invece adesso stiamo riuscendo a fare. Bisogna continuare su questa strada e poi sicuramente essere riusciti a condividere candidature, campagne elettorali anche con gli altri soggetti politici, è stato un passaggio importante non solo per la vittoria in quelle realtà, ma anche per il futuro. Quindi Renzi e Calenda sono necessari così come il Movimento 5 Stelle? Uno deve sempre essere disponibile, perché se non lo è può essere anche necessario, ma diventa impossibile. Io penso che le alleanze si costruiscano nel tempo, con calma, facendo sedimentare le cose, ma anche costruendole sulle vittorie, per cui queste due vittorie mettono dei mattoncini in più. Il governo? Non c'entra niente? Il governo beve, una volta che il governo beve noi siamo contenti, no? In che senso beve? Nel senso per il governo? Per la sconfitta ovviamente. Ho capito. Quindi secondo lei verrà indebolito oppure ci sarà maggior dialogo? No, io sinceramente non credo che queste vittorie possano avere un effetto, soprattutto in tempi rapidi. Questo è un governo, è una maggioranza che non dialoga perché non vuole dialogare e perché non può dialogare. Perché è una maggioranza che fa le cose valorizzando gli estremismi che ha il proprio interno. Cioè non si trovano le tre principali forze e individuano un punto di mediazione su un tema. No, ognuno porta il proprio tema, la propria bandiera, il proprio vessillo e gli altri garantiscono sostegno a quella se al contrario anche loro sono tutelati. E per cui non è un governo di coalizione che come dire ha anche magari un elemento moderatismo. È assolutamente il contrario. Sono forze che si mettono insieme per portare ognuno al proprio pezzo. Il che vuol dire invece il programma e anche le politiche concrete sono estremiste. Non cambia niente per esempio sul DDL sicurezza, sul caso fitto, dove si può mediare? No. No, credo che a limite il contrario. Possano incattivire qualcuno. Oggi girandosi qua alla camera questa sera diciamo c'erano dei musi lunghi. Va bene. Grazie e grazie come sempre a Matteo Mauri del Partito Democratico con quale abbiamo parlato del voto delle regionali. Grazie a voi.